Non in campo, ma l'arduo compito di commentare questa sconfitta. Buonasera a tutti intanto. Sì, è veramente complicato commentare oggi perché secondo me non meritavamo questo risultato. Meritavamo sicuramente di portare a casa punti. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Come vi sentivo in studio, sicuramente abbiamo commesso degli errori che purtroppo oggi ci hanno penalizzati. Sì, dobbiamo lavorare subito dalla prossima settimana e ritornare a vincere quanto prima. Una sconfitta che ci ha provato ma non è riuscita comunque a rovinare il clima di festa. Bisognerà ripartire da quell'entusiasmo nel finale e da una curva che comunque ha saputo accogliere la propria squadra al di là del risultato. Sicuramente, è stata una bellissima cornice. Purtroppo non siamo riusciti a festeggiare a pieno questa giornata. Però è veramente bello il sostegno, la coreografia, tutto quanto. L'applauso finale credo che sia un bellissimo segnale per tutti noi e per tutto l'ambiente. Studio. Ben trovato Nicolò. Il vento è cambiato quest'anno perché nonostante sia arrivata la sconfitta, la mentalità cambiata e rinnovata di questo Benevento quest'anno colpisce e stupisce perché nonostante il Benevento sia passato in svantaggio ci ha comunque provato. È vero, sono arrivati due gol del Cagliari ma il migliore in campo è stato per distacco il tuo collega Sponda Cagliari, Radunovic. Da quest'anno davvero c'è un gruppo unito, coeso, che sa cosa deve fare in campo e l'occasione propizia perché tra meno di sette giorni si ritorna nuovamente in campo a Brescia nell'anticipo della sesta giornata per cercare di ritornare nuovamente al successo. Sì, è detto bene, è stato il migliore in campo il portiere avversario e questo la dice lunga, nel senso che comunque abbiamo creato tanto. Siamo stati poco fortunati, qualche occasione sotto porta che non abbiamo sfruttato al meglio, anche perché è tipo l'occasione di forte, il colpo di testa, potevi portarle in pareggio e poi sai con un uomo in più, magari la partita finisce diversamente. Purtroppo non è stato così, dobbiamo già lavorare da domani in vista della prossima partita che è un'altra partita veramente difficile. Ciao Nicolò, rispetto all'anno scorso è cambiato qualcosa. La prima partita in casa col Cosenza, il Benevento appena è andato in svantaggio, così come lo scorso anno praticamente si scioglieva, nel senso che mancava quella capacità di reazione. Invece dopo la partita di Genova, di Marassi, il Benevento è cambiato. Io parlo di scintilla che si è accesa. Anche oggi il Benevento, nonostante sia andato in svantaggio, ha provato in tutti i modi, da un punto di vista caratteriale, a recuperare la partita. A tuo avviso che vedi le cose dallo spogliatoio e anche dalla panchina, insomma capisci quello che è l'umore, in che cosa è cambiato il Benevento? Che cosa ha fatto cambiare il Benevento? Perché non credo che possa essere tutto attribuibile solo al cambio di modulo. Sicuramente la partita di Genova ci ha dato qualcosa in più nel profondo, qualcosa che ci ha toccato. Sicuramente sono state settimane difficili e abbiamo avuto la forza di reagire, di essere coesi. Ci sono ragazzi che, a mio avviso, in tutti questi anni che ho passato qui a Benevento, insomma ho sempre trovato ragazzi disponibili, bravi, professionisti, veri. E quest'anno sicuramente, nonostante il primo stop vero col Cosenzi in casa, siamo riusciti comunque a dare risposte importanti. E secondo me siamo sulla strada giusta. Siamo un bel gruppo, forte, che lavora ogni settimana al massimo e secondo me è uno step inevitabile ed è la questione di partite perché potessimo uscire così forti, così determinati come è successo in queste ultime partite. Sonia, come sempre a te per la chiusura con Niccolò Manfredini. Non può mettere il suo guantone, però si sa, Paliari è l'uomo in più di questa squadra. Ecco, avere un collega così forte che può fare la differenza, credo sia anche un onore. Soprattutto il portiere conta tanto nell'equilibrio di una squadra. Sì, sicuramente con Alberto, al di là di tutto c'è un bellissimo rapporto, sia fuori che in campo. Quest'anno, ma non è una novità, sta facendo la differenza in questa categoria. Sicuramente ha dato una grandissima mano in momenti chiave di queste partite, lo darà anche nelle prossime sicuramente. Per me sì, è un onore, ma allo stesso tempo è stimolante perché chiaramente avere un ragazzo molto forte, molto bravo sotto tutti gli aspetti è sicuramente un motivo di crescita anche per me.